Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa interessante Mercedes-Benz ML280 CDI 4MATIC automatica 7G-tronic, vettura restyling immatricolata nell'anno 2008, 3000 V6 di cilindrata da 140 kW e 190 CV. L'auto ha percorso 102.000 km, sono originali, si presenta nell'allestimento sport, quindi ha gomma da 19 pollici, vetri posteriori oscurati, pacchetto cromature esterne, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, specchi ripiegabili elettricamente, interni in pelle Alcantara neri, vi faccio vedere. Tenuta veramente in maniera ottima, volante sportivo multifunzione, abbiamo in dotazione anche cruise control e pedal per il cambio al volante, ecco i 102.000 km. L'auto è dotata di sistema navigazione satellitare Command, già quello ristilizzato, climatizzatore automatico B-Zona, sedili riscaldabili elettricamente quelli anteriori e anche regolabili elettricamente, in più abbiamo anche la possibilità di utilizzare il DSR, che è la velocità controllata per la discesa. Quattro alzacristalli elettrici, anche la parte posteriore è veramente ottima, quest'auto viene ceduta con 12 mesi di garanzia legale di conformità, è disponibile in pronta consegna presso il nostro autosalone Pasolini Auto a Gussago, dove vi aspetto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.